la sparatoria benché nessun proiettile l'avesse colpito, un uomo morì durante una selvaggia sparatoria vero una selvaggia sparatoria, tutto nel selvaggio il contesto è piuttosto selvaggio quindi erano tipo a caccia quindi non erano a caccia ma sparatoria è intesa come proiettile? si si, come proiettile ha avuto un infarto? no, ma sei quasi alla... hai capito il gioco, no? che non l'ha subito è morto, però non gli hanno sparato ma nonostante questo è morto durante una sparatoria ma lui ha a che fare con la sparatoria quest'uomo c'è un nesso dai fare per bonzoni allora, contesto selvaggio quindi non urbano non si poteva chiamare ancora urbano ah, ho capito è un uomo primitivo che ha avuto un viaggio nel tempo più avanti non era primitiva western ecco quindi siamo nel far west west ok ok quindi cosa accadeva nel far west solitamente? c'era la dissenteria nei film di Clint Eastwood solitamente cosa c'era? musica un duello ah, era proprietario di un saloon no no più ampio cosa accadeva sempre nel far west? cioè... perché c'erano sempre sparatorie? i ladri ecco quindi dei furilegge eh che gangsta cosa accadde? c'erano dei furilegge che hanno avuto una sparatoria hanno fatto una sparatoria hanno fatto una sparatoria e uno è morto però non era lui non era un furilegge tutt'altro hanno sparato a Donny lui non era un furilegge tutt'altro era uno sceriffo era lo sceriffo ecco perché loro sparando sparando lo sceriffo comunque non è morto con la sparatoria? era un ologramma? no ero un ologramma perché i furilegge si sono ingegnati che la sceriffa era troppo forte per loro allora cosa si facevano? erano tutti uomini la maggior parte quindi la maggior parte di tutti uomini cosa facevano? scoppare a parte a parte giocavano a parte belevano a parte cavalcavano a parte erano uomini pisciavano in piedi erano uomini si facevano la barba si facevano la barba cosa facevano con lo sceriffo del giorno? ah si stava facendo la barba quindi hanno sparato da fuori si è spaventato si è sgozzato tra virgolette si di trado buono in verità è successo che la storia di si svolse una spar-west una banda di furileggio scritta west una banda di furileggio aveva progettato di assaltare una panca lo sceriffo della città era tuttavia un tiratore scelto e i furfanti non avevano speranze di far la panca lo sceriffo aveva l'abitudine di andare dal barbiere ogni mattina e al furileggio venne un'idea mentre il barbiere gli rasava la barba sul collo con una lama affilatissima fece riduzione nella bottega nella bottega sparando con gran fracasso per lo spavento il barbiere si tagliò di netto la bolla allo sceriffo ma almeno non l'ha pagato tocca ancora a me o vai tu?